Ci siamo conosciuti vent'anni fa, a dire la verità, ci siamo conosciuti vent'anni fa ai tempi di G.B.S.B.A.G.A.S.B.M.D. Poi non ci siamo assolutamente cagati per vent'anni, ci siamo rivisti ad Etletico Bilbao, Torino, Etletico Bilbao, e non ci siamo neanche cagati lì. Poi ad un certo punto è venuta fuori, ho sentito Sergio, è venuta fuori la proposta per produrre, registrare il Musica Endemica, il disco per l'uscita di Ludolfine, e da lì, durante questa lavorazione, è cominciato a venire fuori questo progetto, che questa sera verrà la sua prima, dove comunque i suoni tradizionali occitani si mischiano a quella che è l'elettronica mia, ed è tutto sommato una cosa nuova, ma è una cosa che Sergio ha fatto molto nella sua carriera, cioè mischiando con altre tipologie di suoni, però seguendo sia quello che è la tradizione, però rinnovandola ogni volta con Delphine, e con non solo più rock, diciamo. Sì, allora, diciamo che tu prima hai parlato di suoni tradizionali e di suoni attuali, contemporanei, come se si trattasse di due mondi completamente separati. In realtà per me c'è un mondo solo, ed è quello della musica popolare. C'è uno spirito nei nostri suoni più antichi, nel suono della ghiron, della corna musa, del violino, della fisarmonica, dei flauti, nelle canzoni, c'è uno spirito che assolutamente non va a cozzare con quello che è lo spirito dell'attualità, capisci? La musica popolare ha avuto nel corso di tutto il proprio divenire, nel corso di tutta la propria storia, la costante di evolversi continuamente, e gli elementi per l'evoluzione e nella contemporaneità di tutti i tempi che questa musica ha attraversato, che ha saputo trovarli. Quindi, è l'unico modo, secondo me, per la musica popolare occitana, come per la musica popolare in altri paesi, quello di incontrarsi con i suoni del presente per non finire così nel ghetto della rievocazione, dell'età dell'oro, nella ricerca di una purezza di suono, di tradizione, tutte balle che sono elementi che portano a morire la musica popolare, a farne soltanto un culto quasi religioso di valori che peraltro non sono mai esistiti. Quindi, la musica popolare, se vuole vivere, deve attingere al presente, altrimenti lasciamo perdere, lasciamo perdere, perché i nostri suoni sono stati prodotti da un certo tipo di civiltà rurale che oggi non esiste più, di un certo mondo che non esiste. Allora, se in questo mondo c'era qualcosa che ha la forza di vivere nel presente, bene, altrimenti releghiamo tutto nel campo del ricordo e dell'oleografia o del peggio, dell'etnografia. Quindi rinnovarsi è l'unico modo per vivere che ha la musica popolare. In compenso c'è il ballo che fa dal traduignon ed è l'elemento che comunque poi va a far sì che ci sia questo punto di contatto, perché il ballo e quello che io faccio con l'elettronica e il ballo sono le forme di ballo che siamo andati a sviscerare e a studiare, a rinnovare con un suono, mettendogli insieme un suono elettronico. E qui do atto al povero Madasky che ha dovuto fare un grosso sforzo nell'adattare agli schemi coreutici della danza tradizionale il suo approccio elettronico, il suo modo di fare elettronica. Difatti all'inizio non riuscivamo neanche a capirci da un punto di vista lessicale, per lui parlava di riff, parlava di cantato, noi parlavamo di strutture, di A, B, C, di Anna Lameira, Naspas, Tucci e via discorrendo, delle strutture delle danze. Eppure è proprio da questo, dall'incontro di cose apparentemente diverse che nascono le cose nuove. Quando nella Parigi dell'inizio del Novecento alle Fisarmoniche e alle Cornamuse Dovernio vengono a unirsi le Fisarmoniche che erano l'equivalente di allora di quello che fa lui, qualcuno aveva gridato allo scandalo perché la Fisarmonica era la modernità e poi è rimasta.